Ad un anno esatto dal lockdown direi che tendenzialmente puoi darti una pacca sulla spalla perché stai facendo quanto di meglio è nelle tue possibilità per andare avanti e stai cercando anche di trovare la miglior strada non solo per sopravvivere ma anche per vivere se però come molti studi stanno rilevando gli stati emotivi che derivano, che sono derivati un po' da tutti questi grandi cambiamenti senti che in qualche maniera ti bloccano, ti stanno creando più un problema che altro forse è il caso di fermarsi un attimo e di intervenire pensiamo all'ansia, l'ansia come tutte le nostre emozioni è uno strumento fondamentale alla nostra sopravvivenza però entro certi limiti, se l'ansia inizia ad essere eccessiva e a dominare la nostra quotidianità da risorsa vuol dire che è diventata più un vincolo da sbrogliare a tal proposito, se senti di essere più dominato dall'ansia che dominatore di questa emozione ti posso consigliare di andare sul sito di psicura.it perché nella sezione dei contenuti troverai un video molto efficace che ti aiuterà a ribaltare questo processo e a permetterti di tornare ad avere l'ansia come risorsa e non come vincolo sicura? perché noi andiamo sempre dritti al punto